Ucci concede la rivincita ma vuol prendersi tutto il piatto. Sono 41 gli equipaggi iscritti alla 101esima edizione della Targa Florio, terzo round del CIR 2017. Su tutto e tutti svetta naturalmente il nome del 9 volte campione italiano Paolo Andreucci che avrà al suo fianco Anna Andreussi sull'affidabile e di nuovo velocissima Peugeot 208 T16. Il pilota Garfagnino ha vinto 10 volte la corsa automobilistica più antica del mondo ma gli avversari accreditati per contrastarne il passo indemoniato non mancano. Ad iniziare da Simone Campedelli, il Cesenate che dopo il pauroso volo al Sanremo cercherà di ripartire con la Ford Fiesta del Team Orange. Da seguire con attenzione anche il veronese Umberto Scandola sulla scoda Italia che finora è deluso ma che tenterà la via del riscatto nella terra di Trinacria. Occhio all'an fan di UPI Andrea Nuccite in corsa con un'altra scoda, quella del Team Phoenix. La Targa Florio è valida anche per il campionato italiano RGT, il campionato italiano di ruote motrici, quello junior e il campionato italiano R1. Nella serie tricolore RGT al comando della classifica c'è Fabrizio Andolfi con la sua Abarth 124 che questa volta dovrà dare il massimo per tenere dietro il siciliano Totò Riolo, tre volte vincitore della Targa, anche lui su Abarth 124. Da segnalare che oltre a Paolo Andreucci la pattuglia lucchese vedrà il via anche Mattia Vita affiancato da Niccolò Gonnella su Peugeot 208 e Stefano Martinelli che avrà alle note il fido Pietro Brugiati, teso alla strenua difesa del primato nello speciale Suzuki Rally Trophy che l'ambasciatore di Varga vuol far suo. Si parte giovedì sera con la prova speciale spettacolo di Collesano. La prima tappa di venerdì con relativa classifica prevede la disputa di otto speciali, la seconda sabato con altri sei tratti cronometrati per incoronare il re di Sicilia 2017.